Si rafforza la squadra dei funzionari della provincia di Barletta Andiatrani con l'arrivo dal 112 corso di alta formazione per commissari della Polizia di Stato del dottor Giovanni Maria Di Candia che ha sostituito la guida della sezione Polizia Stradale BAT la dottoressa Lucia Adele Merli trasferita alla sezione Polizia Stradale di Grosseto. Il dottor Di Candia 34enne barese dopo la laurea in giurisprudenza nel 2018 ha superato il concorso per vice ispettori della Polizia di Stato occupandosi prevalentemente di polizia giudiziaria e di anticrimine presso il commissariato sezionale di Bari San Nicola successivamente nel 2020 ha conseguito un master di secondo livello in geopolitica della sicurezza e nel 2023 ha superato il concorso per commissari della Polizia di Stato. L'obiettivo che mi pongo di perseguire seguendo anche quelle che sono le direttive del servizio centrale del compartimento Puglia è quello di intensificare l'attività di prevenzione attraverso un'azione di prossimità all'utenza, quindi ai conducenti della strada affinché possano utilizzare la strada in maniera consapevole e sicura al fine di raggiungere il traguardo tanto agognato di una mobilità con zero vittime. Sicuramente la nostra attività potrà essere intensificata e potremo dedicare dei servizi speciali oltre al pattugliamento ordinario per esempio per il controllo delle assicurazioni, per il controllo del trasporto delle merci, per il controllo degli automezzi ma anche attività di telelaser per il controllo della velocità che è un'attività sia repressiva ma soprattutto preventiva. Tutto questo per garantire la massima sicurezza a tutti gli utenti della strada.